Per mezzo secolo le borghese di Pont-le-Vecque invidiarono alla signora Ben la serva felicità. Per cento franchi l'anno cucinava, teneva dietro alla casa, cuciva, lavava, stirava, sapeva mettere le briglie a un cavallo, ingrassare il pollame, sbattere il burro e rimase fedele alla padrona, che pure non era una persona amabile. Aveva sposato un bel giovine squattrinato, morto all'inizio del 1809, lasciando le due bambini molto piccoli e una quantità di debiti. Vendette allora le sue proprietà, tranne il podere di Touquet e il podere di Jeffoss, le cui rendite ammontavano a 5.000 franchi al massimo, e lasciò la casa di Saint-Mélin per andare ad abitare in un'altra meno costosa, appartenuta ai suoi antenati e situata dietro al mercato. Questa casa, ricoperta d'ardesia, si trovava tra un fiottole e una stradina che portava al fiume. Aveva all'interno dei dislivelli che facevano inciampare. Un'anticamera stretta separava la cucina dalla sala, dove la signora Aubin se ne stava tutto il giorno, seduta accanto alle vetrata in una poltrona di paglia. Contro un muro bianco si allineavano otto sedie di mogano. Sotto un barometro, un vecchio pianoforte reggeva una piramide di scatole e cartelle. Due berger ricamate a piccolo punto, erano poste ai lati del caminetto di marmo giallo in stile Luigi XV. La pendola nel mezzo rappresentava un tempio di vesta, e tutto l'appartamento sapeva un po' di muffa, perché il pavimento era più in basso del giardino. Al primo piano c'era anzitutto la camera della signora, molto grande, tappezzata da una carta a fiori pallidi con il ritratto del signore vestito da Moscardino. Questa camera comunicava con un'altra, più piccola, dove si vedevano due lettini da bimbo senza materasso. Poi veniva il salotto, sempre chiuso e pieno di mobili coperti da teli. Seguiva un corridoio che portava ad uno studio. Libri e scartoffie coprivano i ripiani di una libreria, che da tre lati circondava una grande scrivania di legno nero. I due pannelli sparivano sotto disegna penna, paesaggia tempera e incisioni deodrain, ricordi di un tempo migliore e di un lusso ormai finito. Un abbaino a secondo piano dava luce alla camera di Felicita affacciata sui prati. Felicita si alzava all'alba per non perdere la messa e lavorava fino a sera senza sosta. Poi, dopo cena, davanti ai piatti e chiusa bene la porta, affondava il ciocco sotto la cenere e si addormentava davanti al focolare con il rosario in mano. Nessuno nel mercanteggiare mostrava più testardaggine di lei. Quanto alla pulizia, la lucentezza delle sue pentole faceva disperare delle altre serve. Economa mangiava lentamente e raccoglieva col dito le briciole del suo pane dalla tavola. Un pane di dodici libbre, cotto apposta per lei e che durava venti giorni. In qualsiasi stagione portava uno scialle da indiana appuntato sulla schiena con una spilla, una cuffia che ne nascondeva i capelli, calze grigie, una sottana rossa e sopra la camicetta un grembiule a pettorina come la infermiera di ospedale. Aveva il viso magro e la voce acuta. A venticinque anni ne dimostrava quaranta. Dopo i cinquanta non dimostrò più nessuna età. E sempre silenziosa, la figura dritta, il gesto misurato, sembrava una donna di legno che funzionasse meccanicamente. Anche lei, come ogni altra, aveva avuto la sua storia d'amore. Suo padre, un muratore, si era ammazzato cadendo da un'impalcatura. Poi le morì la madre. Le sorelle si dispersero. Un fattore la prese con sé e bambina come era la mise a badale alle mucche nei campi. Sotto gli stracci tremava tutta. Stragliata bocconi, beveva l'acqua delle pozze. Per un non nulla veniva picchiata. E infine venne cacciata per un furto di trenta soldi che non aveva commesso. Passò a un altro podere. Le furono affidate i lavori del cortile. E poiché era ben vista dai padroni, i compagni ne erano gelosi. Una sera d'agosto, aveva allora diciotto anni, la trascinarono alla festa di Colleville. Ne fu subito stordita, confusa, dal baccano dei suonatori, dalle luci sugli alberi, dai costumi multicolori, dalle trine, dalle croci d'oro, da quella folla che saltava tutta insieme. Se ne stava timidamente in disparte, quando un giovanotto dall'aspetto benestante e che fumava la pipa con i gomiti sul timone di un carro le si avvicinò per invitarla a ballare. Le pagò del sidro, del caffè, un po' di schiacciata e un fazzoletto da collo. Poi, immaginando che lei se lo aspettasse, le offrì di riaccompagnarla. Sul bordo di un campo di avena la gettò brutalmente a terra. Lei ebbe paura e si mise a gridare. Lui si allontanò. Un'altra sera, sulla strada di Beaumont, Felicita volle soppassare un gran carro di fieno che procedeva lentamente e nello sfiorarne le ruote riconobbe Teodoro e si rivolse con aria tranquilla dicendo che bisognava perdonare tutto perché era stata colpa del bere. Lei non seppe che rispondere e aveva voglia di scappare. Subito lui si mise a parlare dei raccolti e dei notabili del comune e perché suo padre aveva abbandonato Collevil per il podere degli Ecot e così ora erano vicini. «Ah!» fece lei e gli aggiunse che volevano ammogliarlo. Ma lui non aveva fretta e aspettava una donna di suo gradimento. Lei chinò la testa al che lui le chiese se non pensava al matrimonio. Lei replicò sorridendo che era brutto burlarsi degli altri. «Ma no, ve lo giuro!» e con il braccio sinistro le cinse la vita. Lei camminava sorretta dalla sua stretta. Rallentarono. Il vento era tiepido, le stelle brillavano, l'enorme calico di fieno oscillava davanti a loro. I quattro cavalli, strisciando il passo, alzavano polvere. Poi, senza comando, svoltarono a destra. Lui l'abbracciò un'altra volta. Lei scomparve nell'ombra. La settimana dopo, Teodoro ottenne da lei degli appuntamenti. Si incontravano in fondo ai cortili, dietro un muro, sotto un albero isolato. Lei non era innocente come le signorine. Gli animali le avevano istruita. Ma la ragione e l'istinto dell'onore le impedirono di cedere. Questa resistenza esasperò l'amore di Teodoro, così che per soddisfarlo, o forse senza malizia, le propose di sposarlo. Lei stentava a crederci. Lui fece grandi giuramenti. Poco dopo, le confessò una cosa spiacevole. I suoi genitori, alla chiamata alle armi dell'anno precedente, avevano pagato un uomo affinché lo sostituisse, ma da un giorno all'altro avrebbero potuto richiamarlo, e questo pensiero lo terrorizzava. Una simile vigliaccheria fu, per felicità, una prova di affetto. Scappava di notte, e giunta all'appuntamento, Teodoro la torturava, con le sue apprezzioni e le sue richieste. Le disse, infine, che sarebbe andato lui stesso alla prefettura ad informarsi, e che gliene avrebbe parlato la domenica successiva, tra le undici e mezzanotte. Giunto al momento, lei corse dall'innamorato. A suo posto trovò un amico. Le comunicò che non doveva più rivederlo. Per sfuggire alla costrizione, Teodoro aveva sposato una donna anziana e ricchissima, la signora Leussè, di Tuchè, fu una sofferenza tremenda. Si gettò a terra, gridò, invocò il buon Dio, e gemette, tutta sola nei campi, fino al sorgere del sole. Poi tornò al podere, e annunziò la sua intenzione di andarsene. Alla fine del mese, avuto quello che le aspettava, raccolse le sue poche cose in un fazzoletto, e andò a Ponlevec. Davanti alla locanda, si rivolse a una borghese, che portava un cappello di vedova, e che era proprio in cerca di una cuoca. La ragazza non sapeva fare granché, ma sembrava avere tanta buona volontà, e così poche pretese, che la signora Aubin finì col dire «Va bene, li prendo!» Un quarto d'ora dopo, Felicita, era già sistemata in casa della signora. All'inizio, visse una specie di agitazione, provocatele dal genere di casa, e dal ricordo del signore che aleggiava su tutto. Paolo e Virginia, l'uno di sette anni, l'altra appena di quattro, le sembravano fatti di un materiale prezioso. Si li portava sulla schiena a cavalluccio, e la signora Aubin le proibì di baciarle ogni momento, cosa che la mortificò. Eppure si sentiva felice. La dolcezza dell'ambiente aveva dissolto la sua tristezza. Tutti i giovedì, assidui amici di casa, venivano per una partita di Boston. Felicita preparava in anticipo le carte e gli scaldini. Arrivavano alle otto precise e si congettavano prima del tocco delle undici. Ogni lunedì mattina, il ricattiere, che abitava in fondo al viale, stendeva per terra le sue cianfrusaglie di ferro. Poi la città si riempiva di un brusio di voci, alle quali si mescolavano nitriti di cavalli, pilati di agnelli, grugniti di maiali, e il rumore secco dei carretti nella strada. Verso mezzogiorno, allora di punta del mercato, si vedeva comparire sulla soglia un vecchio contadino di alta statura, il berretto all'indietro e un naso adunco. Era Roblain, il fattore di Chefos. Poco dopo era la volta di Liebar, il fattore di Touquet, piccolo, paonazzo, obeso, in giubba grigia e gambali con speroni. Tutti e due offrivano alla padrona gallina e formaggi. Felicita immancabilmente sventava le loro astuzie ed essi se ne andavano, pieni di considerazione per lei. Di tanto in tanto, la signora Aubin riceveva la visita del marchese di Grémanville, un suo zio rovinato dai vizi che viveva a Falaise sull'ultimo lembo delle sue terre. Si presentava sempre all'ora di pranzo con un orribile barboncino che imbrattava con le sue zampe tutti i mobili. Nonostante si sforzasse di sembrare un gentiluomo al punto da sollevare il cappello ogni volta che diceva il mio defunto padre, l'abitudine aveva il sopravvento, si riempiva un bicchiere dopo l'altro e si lasciava sfuggire delle volgarità. Felicita lo spingeva fuori con garbo. Per oggi basta, signor Grémanville, alla prossima volta. E richiudeva la porta. L'apriva invece con piacere davanti al signor Bure, un ex procuratore. La sua cravatta bianca e la calvizie, lo chabot della camicia, l'ampia rettenicotte scura, il suo modo di fruttare il tabacco curvando il braccio. Tutta la sua persona le procurava quel turbamento che ci prende alla vista di uomini straordinari. Essendo l'amministratore delle proprietà della signora, si chiudeva con lei per ore e ore nello studio del signore. Temeva sempre di compromettersi. Rispettava infinitamente la magistratura e aveva qualche pretesa in fatto di latino. Per istruire i bambini in modo piacevole, regolò loro un libro di geografia illustrato. Vi erano raffigurate diverse immagini del mondo, antropofagi con piume sulla testa, una scimmia che rapeva una ragazza, beduini nel deserto, una balena arpionata, eccetera. Paolo regò a felicità le figure e fu tutta la sua istruzione. Quella dei bambini era affidata a Gouillot, un povero diavolo impiegato al municipio, famoso per la bella scrittura e che affilava il temperino sugli stivali. Quando il tempo era bello, andavano di buon'ora al podere di Jeffos. Laia è in pendenza, la casa nel mezzo e il mare, in lontananza, appare come una macchia grigia. Felicità tirava fuori dalla sporta delle fette di carne fredda e facevano colazione in un appartamento attivo al caseificio. Era tutto ciò che rimaneva di una villetta di campagna ormai scomparsa. La carta da parati a brandelli tremava dalle correnti d'aria. La signora Ben chinava la fronte oppressa dai ricordi. I bambini non osavano più parlare. Su, giocate, diceva e loro scappavano via. Paolo saliva sul fenile, acchiappava uccelli, giocava a rimbalzello sullo stagno o picchiava con un bastone sulle grosse botti che risuonavano come tamburi. Virginia dava da mangiare ai conigli, gli lanciava a cogliere fior d'alisi e la velocità delle sue gambe le scopriva ai calzoncini ricamati. Una sera d'autunno ritornarono attraverso i pascoli di erba alta. La luna al primo quarto rischierava una parte del cielo e la nebbia stava sospesa come una sciarpa sulle sinuocità della tuchè. Alcuni buoi distesi sull'erba osservavano tranquillamente le quattro persone passare. Nel terzo pascolo alcuni si alzarono poi si misero in cerchio davanti a loro. Non temete disse Felicita e mormorando una specie di cantilena accarezzò sul dorso quello che le era più vicino. Esso si girò indietro gli altri lo imitarono ma appena ebbero attraversato il pascolo seguente si levò un terribile mugito. Era un toro che la nebbia nascondeva avanzò verso le due donne. La signora ben cominciò a correre no no più ad agio affrettarono il passo comunque mentre sentivano alle loro spalle un respiro risolante che si avvicinava. Come martelli gli zoccoli battevano l'erba del prato ora la loppava Felicita si girò e si mise a strappare con le mani zolle di terra da gettarli negli occhi il toro abbassava il muso scuoteva le corna e tremava di furore mugendo orribilmente. La signora ben sul limite del pascolo con i due bambini cercava smarrita il modo di superare la scarpata. Felicita indietreggiava sempre davanti al toro e continuamente gli zettava zolle d'erba che lo azzecavano gridando fate presto fate presto la signora ben scese nel fossato spinse Virginia e Paolo cadde più volte nel tentativo di superare la sponda e a forza di coraggio vi riuscì il toro aveva stretto Felicita contro uno steccato la sua bava le schizzava sulla faccia un secondo di più e l'avrebbe sventrata fece in tempo a lasciarsi scivolare tra due sbarre e la grossa bestia sorpresa si fermò per molti anni questo avvenimento fu un argomento di conversazione a Ponlevec Felicita non se ne inorgoglì non sospettando neppure di aver fatto qualcosa di eroico grazie a tutti Grazie a tutti